90 minuti per giocare passa sulla destra per Legati che avanza, palla al piede vede lo scatto di Magnaghi buono scambio questo con Bellazzini teda il tiro dalla lunga distanza e il portiere Riccardo Meigrati fa buona guardia che lancia un lungo per Bellazzini Bellazzini siamo sulla fascia buono salta l'uomo, molto bene la butta nel mezzo Carturo Ispinall può mettere un bel pallone nel mezzo attenzione, buona palla questa fuori dall'Arendino alta Emelade possono battere ecco vediamo sulla sinistra Marras buona lancio nel mezzo attenzione e palla fuori c'era l'illusione pericolosissima questa azione del su tiro che è andata vicinissimo al gol cerca spazi mezzo a due prova bene salta il Carturo si porta sull'out attenzione, vediamo il cross basso, attenzione è nell'aria tiro palo palo siamo sull'auto di sinistra Raimondi Raimondi la butta nel mezzo Magnachi non ci arriva attenzione, è pericoloso attenzione, ecco la mamma mia di pochissimo che la butta sull'area di sinistra vediamo Simone Branca buono scatto questa la butta nel mezzo attenzione buona occasione gol gol è sul tiral gol è sul tiral gol è sul tiral con uno dei suoi migliori giocatori rimette in gioco vediamo Raimondi ora vediamo buono stop questo per di Esposito che la posse per Magnachi allora Belazzini 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 attenzione attenzione il tiro Melgrati sulla palla ma comunque è una palla buona per la Venezia e sulla sinistra con Raimondi Raimondi si lunga la palla attenzione metterla in mezzo la mette in mezzo Melgrati con la mano Carcuno di testa ed entra Mikael Cia un bello taglio fino all'ultimo con Manuel Marras qui del nessun tiro attenzione buona occasione questa e Simone sale attenzione il tiro palo palo nessun tiro ancora la palla in gioco allora vediamo che può ripartire palla nel mezzo no pala direttamente fuori soprattutto in questa in questo periodo di tempo il recupero la zona Cesarini che saprebbe davvero di beffa però abbiamo visto il Venezia che non si sa attenzione buona cosa questa per Magnaghi Magnaghi nel mezzo abbiamo caso unissimo per l'unione Venezia con Simone e Magnaghi diceva che è finito ecco l'arbitro che decreta la fine di gara con il triplice fischio il su tirol fa vincere la gara in casa del Venezia grazie a tutti